Un vento a 30 gradi sotto zero incontrastato sulle piazze vuote e corte campanile a tratti come raffiche di nipi disintornati sulle piazze integrava il cuore di me e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare lupi e vecchi grusali e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare lupi e vecchi grusali seduti sui gradini di una chiesa aspettavamo che finissene se uscissero le donne poi guardavamo con le facce a sentire la grazia innaturale di Ginski e poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei padetti russi e poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei padetti russi l'inverno con la mia generazione le donne in curva e sui dai vicini al ben est un giorno sulla cospettiva riesco per caso di incontrare i vostri amici E gli orinai messi sotto i letti per la notte infinti, stai insomma rivolzzi o vedi. E gli orinai messi sotto i letti per la notte infinti, stai insomma rivolzzi o vedi. E gli oscuri amano chiusi in una stanza, la luce fioca di cammelle e l'ambo del mercolio. E quando si trattava di parlare, aspetteravano sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro al ritmo di re. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro al ritmo di re. L'alba dentro al ritmo di re. Grazie a tutti Grazie a tutti.